che occhi oggi ti ho fatto pure io la clip cioè ma traditore cosa ma vieni qua a darmi un bacino ok startiamo beh scriverò dopo un po' su discord va bene xyonder così ci infastidisci un po' lì io ti voglio bene grazie naika anche io te ne voglio allora hai il karma perché oggi non ti sei tolto gli occhiali sono state in silenzio eh si vedi queste persone che non fanno le cose sui loro main rifare perché vi siete persi la prima kill sui laoi ah ok va bene ecco me io ci hanno donato ci hanno donato ora andiamo a smatterci le p***e cugino sharky ha donato 1 euro e 24 centesimi il resto tienilo pure e buona serata da parte mia e di qualcun'altra minore 3 ciao sharky grazie mille per la donation ma quindi era una donation per scegliere un champion con 1 e 24 cosa ci piace prendi solo Ezreal oppure era così tanto per fare una battuta se vuoi dopo gioco Ezreal hai diritto a sceglierlo adesso ok comunque molto molto bello va bene va bene ah no ma l'ha scritto case ha donato sharky insomma va bene va bene a posto che bello Ione vero ragazzi quanto tempo è che non giocavo Ione 12 mesi no dai un po' di più un po' di meno allora così purtroppo non è worth questo fight dal momento che io ho preso lite di Thor quindi sono tanti danni ma va bene troppo lei è un po' passiva e poi il set lo puoi veder giocare da qua guardalo ecco visto ora sei contento eh dai dai danno free su di lei va bene va bene non mi hanno fatto troppo danno nocturne bot side attenzione attenzione era set giungla non top vabbè dai perché vuoi veder giocare set giungla poi ti vedo eh bot ho bisogno arrivo qui metà vita ci può essere anche Nico ci sono anch'io ma la bot lane non ha seguito cioè ti hanno pingato e non ti hanno seguito non importa è worth è worthissimo è worthissimo very nice direi che andiamo sul super world qui doppia a questo minuto pusciamo un po' pusciamo un po' sta wave va bene io ho back l'ho tolto anche metà vita prima di andare back tanta roba 500 punti easy puntandone 30 oh mamma è un genio del male un nemico è stato ucciso andiamo così oppure così sì così dai ho un sacco di attack speed adesso il nocturne si è arreso ha scritto GG l'altro nocturne ha sprecato il flash in una maniera devastante quando c'erano sia Nico che nocturne allineati io volevo fare l'accuso entrambi ovviamente lui ha fatto flash e poi si è morto perché dopo non lo aveva più la massetta top ha l'ail of blade la dobbiamo pusciarla per bene ulti up Nico non si vede più che sono due livelli sopra questo riesco a hittarlo va bene bene ah cazzo oh porca va bene eh quasi ciao Valerio salvia grazie al follo benvenuto ho sempre in testa buonasera cugino qualcuno ha già preso il regalino sì Nico Micol stasera uno l'ha già preso eh molto male ehm poi vediamo un po' cavolo non lo riscattate mai regalino volete riscattare l'endurace stasera comunque buonasera Nico eh soddisfazione 200% ciao Valerio ok ma è disponibile tutte le sere giusto non lo so vai a vedere il cooldown magari ti dice è disponibile top sera sembra che sia disponibile una volta alla settimana eh non te lo so se non so spiegarvi per quale motivo ho vinto un rank e mi hai dato solo più un LP forse eri a 99 LP oppure eri a meno 20 e qualcosa e quindi ti ho dato più 21 per esempio ma tu hai visto solo più oppure eh era un loss prevented oppure sono crashati i server oppure stai essendo cavolate ciao Vittogalli molto bene molto bene come va ti ho visto prima ti ho salutato subito infatti ed ecco perché odio Nico beh Nico non ha fatto assolutamente niente in quell'azione in quell'azione di prima io avevo metà vita forse meno perché avevo fightato contro Nocturne mi sono preso pure Elite di Torre e l'ho gridata volevo provare a ucciderla quando palesemente ero molto in svantaggio però stavo per farcela però non non è stato quello comunque a renderla forte cioè lei è molto indietro e non potrà proprio nulla contro di me in questo momento è impotente lei mi può solo guardare e dire ciao ciao set vedi vedi sta brava ragazza sono esagerato con le knight ma va bene rimediamo subito vabbè purtroppo non avevi visione su di lui mi sa vero te lo fai te lo fai un attacco base oh sangue dagli occhi letteralmente è mu bravo no no ne avevo 78 ora sono 79 ero in wistrick ho il 58% di guilletti solo Q quindi non è nemmeno problema di MMR no perché dovevi dire cavolate non ti preoccupare Valerio sarà stato un bug purtroppo non puoi farci niente l'unica cosa che puoi fare è pensare ad andare avanti nella vita possono capitare bug che ci danno fastidio che ci magari rallenteranno la nostra ascesa la nostra scalata la nostra salita quello che è ma l'importante è non abbattersi mai ok ti ho dato un lp sti cazzi la prossima te le darà e vaffanculo è vero dico solo cose vere nocturne botlane chi è che inserio decisioni qua ah il nostro mitico jungler molto bene guarda qui muoio va bene va bene qua ho gridato di nuovo però ci sta botlane sta andando molto bene miss fortune con la letality ci può stare mi chiedo come sia possibile che lucian non stia vincendo ma va bene abbiamo un buon jungler lol mi ha scamato qual era la riot ma no raga figuratevi queste robe se dovete dovete vorrei dire hai visto shark ero già pronto ok basta farsi ammazzare da sta puttana ora non la grido più ora farmo divento fortissimo e le scendo in testa con 13 a posto ragazzi chi vuole essere uno di questi 13 fondiamo una religione tutta nostra ragazzi la religione degli urfini dei lamantini chi la vuole va bene va bene ci facciamo un po' di placche almeno una la faccio nocturne era top lei era back quindi una la faccio forse due in caso ci arrivo su nocturne dov'è anche lei c'è anche lei va bene ce la facciamo perfetto bravo massacrati tutti come delle puttane si vai così eh c'è pure trash anche lui vuole ne vuole un po' cazzo quando non faccio più il gridi cedono le cose facciamo la prima torre con anche placca sono 600 gold vai doviene mancare la skin ah naga si regalargliela e via così adesso prendiamo questi bellissimi item forse posso comprarmi questo oh porca che succede purtroppo la botta non se ne è accorta è questo un drago per i nemici ma noi non ci faremo intimorire da tutto ciò ciao ciao sam buonasera oh porca miss fortune che mi pinga non hanno capito nulla quanta vita ha quello non ha nemmeno la ulti se lui entra qua andiamo ora non dovrebbe vederci infatti ora lo becchiamo qua a posto abbiamo un luce anche non so quanti hp abbia vediamo se arriva trash ciao ragazzi benvenuti sono qua in attesa della mia preda quella qua l'attesa ripaga sempre buonasera benvenuti a tutti quanti ciao belli come state come andate sono andati i vostri game trollosi ho provato cose fantastiche spero vi siete divertiti con tanti amicizi con tanti amici ok buonasera buonasera adesso ho iniziato quindi a streamare anche cose che non siano tornei spero ah si addio molto bene voleva darmi l'uccello ma mi sa che lo ha preso eh si ciao laggolico qual è il gossip di stasera viva il bronzo esatto jinn full ap oh merda e com'è andato con l'uque terramus best bot bellissime cose ciao lucifer ci sta capendo più niente sono uno ione gigantesco lo vorreste uno ione così imponente possente davanti a voi cosa gli fareste cosa gli direste niente non potreste fare nulla è troppo potente vera servo lì su un piatto d'argento proprio servita ecco visto anagax ecco lo sapevo io proprio te l'ho servita così non potevi non dire nulla eh conosco i miei polli si vuole la riccoball per attirarlo in che senso nicotipike è apparso un lagolico selvatico qual è la riccoball di lagolico ciao ciao è normale non aver voglia di giocare perchè la bot lei non è in meta si è normalissimo avevo voglia di giocare al gioco raga poi ci sono tantissimi altri giochi buongiorno non mi finiva oggi l'abbonamento infatti Tommy è arrivato un nuovo abbonamento indovina un po' chi te l'avrà regalato ormai si è reso al suo destino ormai si è reso al suo destino ormai mi sono arreso al mio destino è sempre il tempo di qualcuno in questo caso era il mio e vabbè senza vedere direi lagolico tommaso f30 cosa hai detto per una volta che io regalo le sub lagolico questa cosa mi ferisce io stasera ho donato le sub non lui guarda lagolico superato dallo stesso streamer a cui le dona io ho donato di più di lagolico stasera serve un meme qua che meme usiamo per questa scenetta 1v1 lagolico buonasera comunque campari tutto bene tutto bene ok vado a fare il drago la tua squadra ha distrutto un inibitore perché te l'ho regalato io tommi ma perché lo regalo a chi se lo merita giusto per esempio come puoi notare Eveas non ha la sub Eveas è una delle mie spettatrici numero 1 eppure non ce l'ha forse perché non lo merita affanculo guarda che mi pinga pure why don't let me ok adesso ce l'ha Eveas stavo scherzando Eve non ha ancora l'ha ancora ma adesso si ma infatti non capisco ogni tanto ce l'ha ogni tanto no lei scrive ogni tanto ha la sub ogni tanto no tieni uccellino ah il mio giro mi ha dato un ottimo sfudo eh ma abbiamo una combo troppo forte ragazzi siamo devastanti siamo devastanti è Mumu Seth Lulu Miss Fortune e Ione dare fastidio ai nemici in modo creativo neanche nella loro base riescono a ucciderci neanche lì GG very nice very nice cos'è lo sblocca segreti Asdoni hai visto che tipo nei punti canale ci sono dei segreti ecco sbloccare donare lo sblocca segreti sbloccherà quei segreti lì tra l'altro c'è un segreto segreto che costa 50.000 così abbiamo deciso bella lì grande Onix devo fare di meglio ma dettagli non ti preoccupare anche io volevo fare di meglio a un certo punto ho fatto un po' di feeding ma va bene normale il GWP bella partita la le lame le lama ricorne cazzo però stagliame va bene Onix ti ringrazio del game ti espello dal gruppo e vaffanculo no po'